Passato esattamente un mese dall'inizio della stagione della Major League Baseball e dunque primo appuntamento con il mio canale per le MLB Review, l'appuntamento mensile per classifiche e curiosità attorno al meraviglioso gioco del baseball americano. Un mese di regular season che ha già riservato qualche sorpresa, è vero appunto siamo soltanto a inizio maggio ma comunque qualche elemento in più rispetto al primo video fatto in questa stagione sul canale ce l'abbiamo e di conseguenza prima panoramica in attesa di ritrovarci a inizio giugno per il prossimo appuntamento. Come al solito partiamo dalla American League East, passeremo per tutte le divisioni della Major League Baseball parlando anche di avvenimenti in e fuori dal campo. American League East che vede subito una sorpresa che in realtà è una conferma rispetto al video fatto nella opening week ovvero i Tampa Bay Rays che confermano evidentemente il loro grandioso momento di forma, 7 vinte e 3 persi nelle ultime 10, un totale di vittorie pari a 23 a fronte di soltanto 6 sconfitte. Tampa Bay è una squadra che come al solito non smette mai di stupire, sappiamo che è una formazione che è basata su un payroll ridicolo rispetto alle altre formazioni della Lega ma che comunque ha un sistema talmente efficiente e talmente efficace che i talenti vengono su veramente aiosa pur ogni anno di fatto privandosene, ovviamente cedendoli ad altre formazioni. Il Monte di Lancio è sempre di altissimo livello tra Durasmussen, Shane McClanahan, c'era Jeffrey Springs che però è andato in lista infortunati quindi lo aspettiamo anche lui sul Monte di Lancio. Insomma Tampa Bay è sempre quella squadra solita che non stupisce mai evidentemente giocare un baseball moderno, molto piccolo perché Tampa Bay non è famosa per i fuoricampisti ma comunque ha già un vantaggio importante su delle contender che da un certo punto di vista non ti aspetti. Perché in seconda posizione dell'American League East abbiamo i sorprendenti Baltimore Orioles, abbiamo già detto nella famosa live con Andrea di MLB Italia e Puma Z che i Baltimore Orioles sono una squadra comunque giovane, di prospettiva è una di queste squadre da tenere d'occhio insieme magari ad Arizona, Seattle e ad altre formazioni della panoramica MLB. Quindi evidentemente il corti giovani che già l'anno scorso aveva fatto molto bene, quest'anno sta avendo quel salto di qualità che comunque ci si poteva aspettare. Certo che arrivare al momento, al primo mese di stagione, sopra Toronto, Boston e New York è veramente clamoroso per la formazione di Brandon Hyde. 19 vinte, 9 perse per la formazione del Maryland, 8 vinte nelle ultime 10 di cui le ultime due consecutive. Veramente una prestazione mostruosa da parte di Cedric Mullins, Ryan Mountcastle, Edry Ruchman che pronti via ha già avuto l'impatto che ci aspettava dal numero 1 del draft assoluto del 2019. Seconda posizione dunque per i Baltimore Orioles che però devono vedersela come una formazione altrettanto giovane e altrettanto spettacolare. Ovvero i Toronto Blue Jays che comunque hanno un buonissimo record, 18 vinte, 10 perse, ampiamente sopra il 50%, ma come vediamo l'American League East come al solito è il bagno di sangue che noi tutti amiamo. È una squadra, anche quella di Toronto, in salute, 7 vinte, 3 perse, l'ultima sconfitta è arrivata contro i Boston Red Sox che li stanno pian pianino risollevando, anche se non sono propriamente la squadra di livello di qualche anno fa. Fatto sta che comunque Toronto è terza solitaria, ha 4 partite e mezza di distacco da Tampa Bay e con 3 partite e mezzo di vantaggio, proprio sui Boston Red Sox che occupano in realtà il quarto posto ex equo con i New York Yankees. E fa specie, per quanto squadra di blasone, vedere Boston Red Sox e New York Yankees in fondo alla classifica. È vero che per Boston un pochino forse ce lo si poteva anche aspettare, calcolando che il monte di lancio è disastroso e comunque anche il parco rilievi non è che sia evidentemente questo granché. Boston quando vince le partite perché l'attacco è veramente ingiornata, chi delude evidentemente è New York. I Yankees evidentemente devono ancora carburare una partenza così a rilento, francamente non me ne ricordavo, al netto che appunto parliamo comunque di squadre che sono sopra il 50% di vittorie, cosa assolutamente non banale. Ma sappiamo che l'American League East è sempre stata una division competitiva, addirittura avere 5 squadre sopra il 50% di vittorie è ampiamente, è vero siamo soltanto a maggio, ma comunque è un dato da assolutamente rimarcare. E comunque un avvio interessante da parte di Boston e New York che li rivede comunque quarta e quinta, messe in altri division sarebbe una evidentemente posizione diversa. Perché se noi prendessimo i New York Yankees e i Boston Red Sox e li mettessimo per esempio nell'American League Central e nell'American League West, parleremmo di altre posizioni. Al netto che delle due squadre più titolate evidentemente di questa divisione, gli Yankees sono quella meno in salute, è una crisi delle ultime dieci partite, 3 vinte e 7 perse, 3 perse di fila peraltro per la formazione di Aaron Boone. I Boston Red Sox invece vengono a 2 vinte di fila e si gioca peraltro oggi contro Toronto, sconto diretto importantissimo per risollevare la classifica dei Red Sox. Nell'American League Central invece i primi sono i Minnesota Twins in una divisione va detto molto a ribasso, è una divisione probabilmente la meno competitiva dell'otto sicuramente in American League e probabilmente anche in National League. I Minnesota Twins comunque stanno facendo una grandissima stagione per le loro potenzialità, non stanno facendo magari sfracelli come ci si poteva aspettare, va detto però che comunque è un record tutto dato che invidiava, 17 vinte e 12 perse nel primo mese di stagione e il record ovviamente sopra il 50%, in questo caso è l'unica perché tutte le altre formazioni sono evidentemente al di sotto perché i Cleveland Guardians sono al secondo posto ma con 13 vinte e 15 perse, 3 partite e mezza di distacco rispetto ai Minnesota Twins. Terzi sono i sorprendenti Detroit Tigers nonostante abbiano un record perdente ma probabilmente Detroit è nella posizione che dovrebbe essere come record perché 10-17 è effettivamente un record che si attesta molto facilmente a questa formazione dei Tigers. Evidentemente non ci si poteva aspettare i Chicago White Sox in caduta libera perché una vinta nelle ultime 10, peraltro l'ultima contro i Twins, a spezzare una serie negativa di 9 perse consecutive, relega i White Sox a un disastroso 8-21 che è veramente un record da peggior squadra della Lega o veramente poco ci manca. Non fanno test ovviamente i Kansas City Royals che sono ultimi ma soltanto una partita di distacco però Kansas City è una squadra che sta rifondando da anni e non si è ancora vista l'idea in fondo al tunnel per vedere evidentemente tornare Kansas City ai livelli di un tempo. I White Sox invece il potenziale ce l'avrebbero e come e stanno veramente deludendo, veramente partenza disastrosa per la formazione della Southside di Chicago che senza dubbio dovesse dare un premio di delusione del giorno è evidentemente appannaggio suo perché non ci sono altre formazioni che possano controperformare in questo tipo. Questa era l'American League Central, passiamo all'American League West con i Texas Rangers che sono al primo posto con 17 vinte e 11 perse, in seconda posizione ci sono gli Houston Astor che si sono ovviamente ripresi dopo una opening week abbastanza disastrosa, 15 vinte e 13 perse per la formazione di Dusty Baker, 7 vinte nelle ultime 10 e una vinta evidentemente contro i Giants. Terzi sono i Los Angeles Angels che non sono ancora crollati come era successo nella scorsa stagione e hanno in qualche modo retto, 6 vinte nelle ultime 10 è una formazione che comunque se regge può dare del filo da torcere secondo me anche in questa divisione in ottica playoff è partita malissimo Seattle, una delle squadre da attenzionare per quanto riguarda la formazione giovane e di prospettiva il potenziale è in dubbio dei Seattle Mariners, evidentemente non è ancora in piena carburazione ma ricordo ancora una volta siamo a maggio, è veramente presto per fare conti. Ultimi sono gli Oakland Days di cui non ci si poteva aspettare niente di diverso, 6 vinte e 23 perse per la peggiore squadra della Lega ma sappiamo che Oakland non è in situazioni molto floride, anzi tra poco di Oakland ne parleremo perché gli approfondimenti sono dedicati in questo momento all'American League West, uno riguarda una notizia di campo, l'altra appunto riguarda la notizia degli Oakland Athletics, l'avrete sicuramente letto ma comunque è giusto parlarne. Prima però abbiamo un apparente su Jacob DeGrom, star dei Texas Rangers che evidentemente è prima nella sua division ma deve fare a meno della sua superstar sul monte di lancio per almeno 15 giorni, è stato inserito nella IL-15, il giocatore ex New York Mets che comunque era già in prestazione da DeGrominant, già nelle uscite che ha avuto con i Texas Rangers è dovuto uscire comunque anzitempo al quarto inning nella vittoria 5-2. Contro il New York Yankees è stato messo appunto nella lista di infortuni per 15 giorni per via di una infiammazione al gomito destro e appunto Texas si rivaluterà di vederlo tra 7-10 giorni nella speranza che possa tornare a giugno evidentemente in forma per la parte di stagione che conta di più. Adesso però ci sarà da reggere un po' per i Texas Rangers, vedremo come appunto se ne accaverà la formazione texana che comunque è solidamente prima di una division dove però abbiamo gli Houston Astros che stanno letteralmente tornando ma sappiamo che Texas quest'anno è molto competitiva visto il grande mercato fatto in free agency. L'altra squadra di cui ovviamente dobbiamo parlare nell'American League West sono ovviamente gli Athletics, gli Oakland A's hanno finalmente deciso quale sarà il loro futuro, va detto che in realtà dovremmo chiamarli Las Vegas Athletics perché la proprietà di Jeff Fisher ha comprato effettivamente un terreno per edificare il nuovo stadio. La grandissima questione che aveva attanagliato la East Bay Area praticamente fino a qualche giorno fa è notizia del 20 di aprile che appunto Fisher ha comprato un terreno a Las Vegas, Nevada, quindi verosimilmente ci sarà il trasferimento da Oakland a Las Vegas. Così come è capitato per quanto riguarda il football con i Raiders anche gli Athletics cambieranno evidentemente strada e fa molta tristezza francamente questa notizia perché Oakland non è una formazione ultima arrivata, è una formazione storica del Major League Baseball, è una formazione che ha vinto comunque dei titoli seppure in contesti comunque non permanenti edificanti perché il Coliseum non è un bello stadio, è uno stadio anni 70 ed è rimasto evidentemente a quel tempo. Sappiamo come evidentemente l'amministrazione di Oakland aveva provato comunque dare una chance agli Athletics di trovare un nuovo stadio, c'è stato un tentato accordo tra il comune di Oakland e la proprietà, non si è trovato l'accordo per costruire un nuovo stadio all'interno del porto, la zona portuale meglio di Oakland che avrebbe riqualificato evidentemente questa formazione storica degli Athletics e invece appunto la soluzione è stata trovata ovvero quella di trasferire la squadra da Oakland a Las Vegas. Va detto che Oakland avrà un contratto in scadenza fino al 2024 al Coliseum e poi il trasferimento dovrebbe avvenire, annetto però che si parla di 2027 per la realizzazione del nuovo stadio a Las Vegas, quindi di conseguenza gli Athletics per i due anni successivi, quindi 25 e 26 dovranno trovare una nuova sistemazione se non temporanea. Non è una situazione facilissima, Oakland non l'ha presa benissimo, i tifosi di Oakland non l'hanno presa benissimo, abbiamo visto nella serie contro Sensenati delle proteste, degli striscioni contro la proprietà degli Athletics, contro il trasferimento. Si parlava di vendere la squadra a magari un altro investitore di Oakland per mantenere la squadra nella East Bay e invece alla fine si va a Las Vegas che comunque va detto ha molto più interesse rispetto a questi Oakland Athletics. Las Vegas è una città che comunque ha già una squadra di hockey creata a Las Vegas, è una squadra di altissimo livello, parliamo dei Golden Knights e ha già i Raiders, anche loro provenienti da Oakland. E questa sarà la seconda squadra evidentemente che da Oakland andrà a Las Vegas Nevada, verosimilmente parleremo dei Las Vegas Athletics a partire dal 2027. Nella National League East sono primi gli Atlanta Braves, squadra di assoluto livello, 18 vinte e 9 perse, partita molto interessante, quella appunto... Nella National League East sono primi gli Atlanta Braves, 18 vinte e 9 perse, partenza assolutamente nei canoni per i Braves che hanno adesso una serie molto importante contro il New York Mets che va detto è stata rinviata nelle prime due partite per pioggia, di conseguenza il record va preso un pochino con le pinze, partita che verranno in realtà recuperate in estate. C'è un vantaggio di tre partite rispetto appunto a New York Mets che hanno fatto comunque una discreta partenza a mio modo di vedere, certo devono ancora carburare al 100% ma siamo sempre a maggio quindi queste classifiche verranno sempre prese con beneficio dell'inventario, vedremo magari a giugno se sarà cambiato qualcosina. Comunque ci sono tre partite di distacco per gli Atlanta Braves sulle dirette inseguitrici, una appunto è New York Spundamez, 15 vinte e 12 perse, la seconda inseguitrice è sorprendente, è Miami. Però Miami avevamo detto era già una squadra da attenzionare perché ha una superstar su Montenegro, ovvero Sandy Alcantara, ha un core di giovani molto interessante, ha preso Luis Arraes che è stato il miglior battitore per quanto riguarda la media battuta dello scorso anno e unito appunto al core di giovani e altre superstar, per esempio Just Cisholm, evidentemente Miami è una squadra da tenere d'occhio che comunque ha approfittato di cose, di una partenza a rilento di Philadelphia. Philadelphia che ha un record vincente, 15 vinte, 14 perse, ma è soltanto in quarta posizione in questa divisione che sapevamo essere un massacro per tre squadre e mezzo qualora Miami avesse fatto quel salto di qualità, Washington è fuori dai giochi ma Philadelphia evidentemente sta ricorrendo. È vero che Philadelphia è priva di una delle sue superstar, sappiamo che Bryce Harper è infortunato però sta comunque riprendendo la via della guarigione, sappiamo che Harper dovrebbe tornare addirittura a maggio, si parlava addirittura inizialmente di All-Star Game e invece evidentemente il recupero è molto più veloce del previsto. Dunque vedremo la superstar degli Philadelphia Phillies, evidentemente già all'opera a maggio, forse a giugno e sarà un'edizione fondamentale per le rincorse playoff dei Philadelphia Phillies. Ultimi appunto sono i Washington Nationals che comunque non stanno sfigurando, hanno un record comunque pari nelle ultime 10, 5 vinte, 5 perse, ne hanno vinta una contro i Chicago Cubs, hanno comunque 10 vittorie, 17 sconfitte per una squadra che comunque è in pieno tanking, in piena rifondazione. Passiamo adesso invece alle divisioni più sorprendenti da certi punti di vista perché la National League Central e la National League West veramente hanno qualcosa di cui raccontare. Alzi la mano chi pensava che nella National League Central i primi della classifica a maggio fossero i Pittsburgh Pirates, secondo me nessuno aveva ipotizzato uno scenario del genere e invece Pittsburgh ha fatto una partenza incredibile. 20 vinte, 9 perse per i Pirates che stanno evidentemente andando oltre ogni previsione, sapevamo che era una squadra in pieno tanking, sapevamo che era una squadra giovane, ha qualcosa comunque su cui puntare perché abbiamo un O'Neill Cruz in stato di grazia prima che si infortunasse, abbiamo un giocatore di cui parleremo dopo ma soprattutto ha sorpreso tantissimo il multilancio perché Oviedo, Mitch Keller hanno fatto delle prestazioni in aprile veramente di primissimo livello. Ecco spiegato perché Pittsburgh sta sorprendendo così tanto, 20 vittorie e 9 sconfitte. L'altro giocatore, l'altra superstar oltre a O'Neill Cruz su cui Pittsburgh deve assolutamente puntare è Brian Reynolds che ovviamente non è l'attore canadese di Deadpool ma è il giocatore esterno americano che peraltro appunto sarà l'uomo franchigia, nuovo uomo franchigia dei Pittsburgh Pirates che ha appunto firmato un'estensione di 8 anni per 106,75 milioni totale. Questo è un articolo di ESPN che evidentemente testimonia la volontà dei Pittsburgh Pirates di blindare l'esterno, uno dei giocatori più forti, evidentemente della franchigia dell'era moderna. Reynolds è sempre stato nei Pittsburgh Pirates anche nei momenti bui, adesso che ha fatto il salto di qualità, giustamente la negligenza dei Pirates ha deciso di evidentemente puntare su di lui. Sarà veramente importante vedere le prestazioni di Reynolds da qui in avanti, assolutamente è una cosa fondamentale per Pittsburgh trovare un punto fermo. Uno appunto è O'Neill Cruz, l'altro evidentemente è Brian Reynolds che comunque aveva delle altre offerte evidentemente per un'estensione simile. Kansas City, Chicago Whitehawks, Oakland, evidentemente squadre che potevano puntare evidentemente su una superstar per rifondare su di lui la formazione, evidentemente però Pittsburgh ha deciso evidentemente di anticipare queste squadre e di blindare una superstar perché secondo me Reynolds è un giocatore di livello assoluto per questi Pirates e non solo. In seconda posizione abbiamo i Milwaukee Brewers che sono comunque in linea di galleggiamento per i record previsti, 18 vinte e 10 perse per la formazione di Krista Jelic e compagni anche se l'ultima l'hanno persa contro i Colorado Rockies. Sorprendono invece i Chicago Cubs, 14 vinte e 13 perse, abbiamo detto già nella famosa diretta Instagram della prestagione che i Chicago Cubs poteva essere una formazione di livello non magari per attentare a un posto playoff ma per giocarsi una potenziale white card o terzo posto di division. Perché comunque è vero che i Cubs hanno preso Dennis B. Swanson, è vero però che comunque hanno un core di giovani molto interessanti. I Chicago Cubs hanno peraltro un Patrick Wisdom guidato dal signore che ha fatto praticamente 10 fuori campo nelle primissime partite di regular season, ecco spiegato anche perché questo attacco dei Cubs comunque può ingranare anche grazie a lui, al netto che comunque i Cubs stanno un pochino scendendo, 3 vinte nelle ultime 10 e 3 perse consecutive e adesso la prossima si gioca stasera contro Washington. In quarta posizione abbiamo i Cincinnati Reds che non hanno evidentemente grandissime belleità, sono comunque quarti a 12 vinte e 16 perse perché evidentemente la più grande delusione della National League sono i St. Louis Cardinals, 10 vinte e 19 perse per una formazione che ricordiamo è la seconda più tratta della storia del gioco, ha vinto 11 titoli contro i 27 del New York Yankees e vederli così in disarmo in questa partenza rilento ad aprile fa veramente specie. Due vinte soltanto negli ultimi 10 per i Cardinals, 3 perse consecutive e si gioca la prossima sfida contro i Los Angeles Angels, serie molto interessante che peraltro giovedì sarà trasmessa anche da Sky Sport. Chiudiamo la nostra programma con la National League West e anche qui alzi la mano chi pensava che gli Arizona Diamondbacks fossero primi ex epoco in Los Angeles Dodgers a maggio. Probabilmente nessuno va detto che Arizona come Seattle e come altre squadre perché abbiamo detto prima è una squadra evidentemente da tenere d'occhio perché sono una squadra con un core molto giovane con qualche superstar in erba e con un giocatore molto affermato. La superstar è Christian Walker senza dubbio però abbiamo altri giocatori molto giovani e molto forti, vedi per esempio Alec Thomas, vedi per esempio McCarthy e giocatori che stanno rendendo tantissimo. 16-20-13 perse per i D-backs è anche merito loro ma ovviamente l'altra superstar dei D-backs è sul monte di lancio e parliamo ovviamente di Zach Gallen, il giocatore nato nel 95 nel New Jersey, ha fatto anche una volta una grande partenza di stagione. Zach Gallen nell'anno scorso era veramente un lanciatore di primissimo livello e quest'anno sta rendendo prestazioni da Cyan Award che perché non sapesse che cos'è è il premio riservato al miglior lanciatore per ogni Lega. 4 vinte, una sola sconfitta, media IRA di punti di venerdì sul lanciatore di 2,15 che è veramente un dato incredibile per darvi l'idea se un lanciatore concede più o meno 3 punti a partita. È un ottimo lanciatore sotto i tre punti di partita concessi, parliamo di veramente un lanciatore di livello assoluto. Zach Gallen sta tenendo a gallo sul monte di lancio i D-backs e con le sue prestazioni sono praticamente vittorie assicurate. Abbiamo parlato di Christian Walker come superstar offensiva, ebbene Zach Gallen è la superstar difensiva sul monte di lancio che Arizona trovava e voleva evidentemente avere. Quindi buonissima prestazione da parte di Gulls che ovviamente sarà il go-to guy sul monte di lancio dei D-backs che sono primi ex-equo con i Los Angeles Dodgers che comunque non sono più uno squadrone devastante che era un tempo ma comunque sono uno squadrone di livello. Possono sicuramente appuntare ai play-off e hanno comunque un record invidiabile, 16 vinte e 13 perse. Chi invece evidentemente ha avuto delle ripercussioni o delle partenze un po' ondivage è stato San Diego. San Diego che adesso ha un record vincente, 15 vinte e 14 perse. Hanno recuperato Fernando Tatis che adesso è tornato evidentemente dopo la squalifica. è stato messo in esterno, quindi attenzione a San Diego che per molti è data come favorita di questa division perché il potenziale offensivo è mostruoso. Certo che avere sempre tanti grandi campioni in squadra spesso non è così fondamentale, spesso a volte può essere deleterio. Va detto adesso che a giugno vedremo l'integrazione piena di Tatis nel loro ruolo di esterno e come avrà impattato i San Diego Padres che comunque hanno soltanto una partita di distacco rispetto ad Arizona e ai Los Angeles Dodgers. Evidentemente il duello tra Dodgers e Padres è in essere, sorprendono gli Arizona Diamondbacks. Vediamo se la formazione di Phoenix andrà evidentemente a raggiungere fino alla fine. Chiudono le classifiche i Colorado Rockies e i San Francisco Giants. San Francisco in realtà è prima dei Rockies con 11 vinte, 16 perse ma comunque è una formazione un po' in caduta libera, 3 perse consecutive e non mi danno l'idea evidentemente di tornare a quei livelli di un tempo. E ultimi sono i Colorado Rockies di cui però francamente non ci si aspettava granché 9-20 e 20 perse. Va detto che è un record evidentemente abbordabile e sul pezzo per la formazione dei Rockies che evidentemente non ha la sufficienza di Chris Bryant per competere a livelli altissimi. La divisione che vede comunque tante squadre competitive soprattutto Los Angeles e San Diego e anche ovviamente la sorpresa agli Arizona Diamondbacks. Questa era comunque la prima puntata del recap per quanto riguarda la MLB Review e il prossimo appuntamento sarà a inizio giugno ovviamente per vedere nuove classifiche, nuovi aggiornamenti e altri nuovi episodi attorno al meraviglioso gioco del baseball. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa analisi di come stanno la vostra squadra preferita, se avete anche voi delle sorprese e delle delusioni come le ho accattato in questo episodio. E saluto da parte di Matthew Thorgard, ci vediamo a un prossimo video.